Andrea grazie anche voi per essere qui assieme a noi a quest'ora siete anche molto numerosi oggi è un grande onore per noi io cosa andrò a farvi vedere adesso io ho ancora una slide due slide per iniziare a entrare nel tecnico ma l'obiettivo di oggi è quello che c'è è proprio quello del monitoraggio del cantiere monitoraggio in modo anche semplice del cantiere io punto tanto su quello al di là della dimensione delle vostre aziende Andrea ci parlava di due soluzioni io oggi parlerò della piccola come diceva Andrea perciò Ergo One e le app perché parto dalla Ergo One perché comunque essendo lo stesso software Ergo One è il nocciolo minimo per andare a gestire completamente un'impresa di conseguenza risulterebbe troppo complesso in 20 minuti farvi vedere l'enterprise che comunque ripeto è la stessa soluzione più ampia più allargata e senza limiti sostanzialmente Ergo One è un ERP in tutto e per tutto cosa può fare può partire dalla redazione di un'offerta un'offerta accettata mi diventa contratto e budget di quel cantiere Ergo One permette di archiviare i documenti permettiamo di gestire i costi del cantiere costi da documenti fornitori DDT, SAL SAL è un rapportino di un artigiano di un terzista rilevazione delle ore uomini in mezzi della vostra azienda l'imputazione a cantiere delle spese generali di quel cantiere chi più virtuosi attribuiscono anche le spese generali aziendali ribaltandole possiamo andare a gestire ovviamente la parte dei ricavi a fronte di un contratto posso andare a redigere la mia contabilità lavori qui in più modi dove vedete un'icona vuol dire che è possibile farlo sia direttamente in Ergo ossia anche con uno strumento che abbiamo integrato regolo permettiamo l'analisi dei lavori e la fatturazione fatturazione che può essere banalmente faccio la fattura, genero un XML che dopo lo carico sul portale del commercialista o addirittura nelle opzioni abbiamo il nostro portale di fatturazione elettronica contabilità clienti fornitori perciò a fronte delle fatture che emetto e delle fatture che ricevo o direttamente tramite il nostro portale o importando gli XML scaricati dal portale del commercialista ho la possibilità di andare a gestire lo scadenziario gestisco incassi e pagamenti in modo semplice in modo che i capi commessa o chi ne abbia la necessità ha sempre portato in mano anche tutto questo ovviamente tutto questo lavoro dov'è che ha il suo valore dov'è che dobbiamo creare valore nelle analisi dei cantieri perché è lì che dobbiamo arrivare analisi dettagliate, sintetiche di raffronto col compito col budget che avevo inserito per capire l'andamento del mio cantiere se il mio cantiere sta banalmente marginando oppure no ci sono delle opzioni per chi ha un ufficio acquisti si può attivare il modulo dei acquisti in modo da redigere all'interno di Ergo gli ordini a fornitori o i contratti di subappalto non solo questo vi permetterebbe di coinvolgere i capi commessa i capi cantiere nel fare le RDA non più tramite Whatsapp ma all'interno di un'app di Ergo per appunto collegare chi sta in cantiere con chi è in sede gestione di interventi per gli impiantisti tra di noi ci sono alcuni impiantisti perciò si può fare in modo di gestire il rapportino di intervento tramite app in modo che vada in fatturazione o banalmente gestione del costo del movimento del magazzino se non è un intervento fatturabile chi ha la possibilità può gestire anche la contabilità generale ho ripetuto un po' quello che ha detto Andrea ma entrando un po' più nello specifico e tra le altre cose oggi vi farò vedere anche dove è comparso questo riquadro le app che permettono in modo agile di gestire proprio tutti questi concetti direttamente da cantiere o dunque io mi trovo perciò i documenti di cantiere i costi direttamente da cantiere addirittura delle app per approvare il pagamento di una fattura fornitore ma soprattutto anche le analisi del cantiere con i cruscotti come dicevo il nostro obiettivo qual è ma il cantiere sta guadagnando perché tutto il lavoro che ho detto prima serve proprio per questo e la marginalità di tutti i miei cantieri mi fa capire se la mia azienda sta andando più o meno bene diciamo così l'ultima slide è questa come si può installare Ergo Ergo si può installare si dice in house perciò sul vostro server sul vostro pc oppure in data center in cloud dove c'è un server a vostra disposizione si installa Ergo lì questo permette cosa? di non avere il problema di gestione del server salvataggi, aggiornamenti dei antivirus e via dicendo dove c'è qualcuno che si preoccupa della sicurezza vi garantisce la continuità e la salvaguardia dei vostri dati ecco in entrambi i modi oggi la maggior parte dei clienti è in house perciò installata nella vostra sede sta giorno per giorno crescendo la curiosità la voglia la necessità di andare in cloud perché appunto delego un problema e ho sempre i miei dati disponibili ovunque io mi trovi con qualsiasi dispositivo ecco lì dipende dalle vostre necessità ho cercato di essere sintetico adesso io vi farò vedere con quale semplicità è possibile controllare il cantiere monitorare i miei costi avanzare i lavori per capire come sta andando il mio cantiere dopodiché siamo a disposizione per domande e risposte in modo da aiutarvi a capire al meglio quello che io cercherò di farvi vedere con estrema semplicità vi spiego come è fatto l'ergo ergo è fatto dove là in alto delle aree di lavoro dei workspace dove ho la gestione dei cantieri dove si trovano tutti l'elenco dei miei cantieri aperti o chiusi o entrambi o sempre tutto lo storico in linea selezionando il cantiere ho dei tasti dove posso fare tutte le azioni di cui vi parlavo prima perciò qui in basso rilevare i costi spostamenti di materiali le spese generali i diritti del fornitore i artigiani e via e via nella parte superiore il giallo e i tasti gialli e rossi ho la gestione della parte attiva cosa vuol dire parte attiva inserire il computo fare la contabilità dei lavori e arrivare a fare la mia fattura o anche per piccoli lavori in economia ergo permette di fare cosa sulla base della rilevazione dei costi manodopera materiali artigiani qualsiasi costo genera un documento a ricavo cappando con una percentuale i costi e generando questo documento da portare al cliente il conto da portare al cliente magari diviso per data in questa data abbiamo portato questi materiali ci abbiamo messo c'erano tre operai c'era il bobcat in quest'altra data e via e via in modo da esporre in modo molto chiaro al cliente le lavorazioni fatte in economia e da lì andare mettersi d'accordo e andare in fatturazione tasti verdi e grigi sono per le analisi dopo vi faccio vedere tutto le analisi dei fornitori coinvolti su quel cantiere che materiale ho mandato su quel cantiere le scadenze di quel cantiere un consultivo magari un'analisi dettagliata ogni singolo dettaglio che ho rilevato sul cantiere e raffronti col budget anche l'analisi delle ore dei miei uomini dopo ho degli elementi che mi permettono di avere un colpo d'occhio di come sta andando in termini di costi e ricavi il mio cantiere raffrontando al budget i costi sostenuti e sui ricavi la contabilità dei lavori ancora da fatturare e il fatturato cosa si evidenzia qui che ho fatto ho fatturato tutti i sale perché il valore dei sale è a zero in effetti di colore grigio chiaro non vedo nulla e che ho già iniziato a produrre lavorazioni a fare del lavoro in cantiere per 3.000 euro va bene perciò a fronte di un budget di 450.000 euro ho fatturato 118 ok stiamo andando avanti bene qua vedo che sono avanti bene sulle pareti ho già fatto quasi tutto il lavoro invece qua sono fermo sulle finiture fermo sugli infissi e anche sulle coperture perciò un bel colpo d'occhio semplice semplice mi sposto a destra qui avendo selezionato un cantiere vedo solo una riga ma cosa vedo anche qui il budget totale dei ricavi il fatturato delta budget totale dei costi costi sostenuti delta margine a valore margine percentuale è una situazione idilliaca questa raramente si trova una situazione del genere ve lo auguro a tutti perciò va bene comunque ecco qui vedo una riga se io all'inizio avessi cliccato su tutti i cantieri o avessi scelto alcuni cantieri ovviamente sulla destra in quell'elenco mi troverai tutti i miei cantieri e perciò il margine sarebbe della mia azienda ecco qua che non è più così idilliaco come era prima è meglio che ritorno su vi faccio vedere l'ultima che posso avere anche se gestite bene la contabilità clienti fornitori perciò le fatture dei clienti e dei vostri fornitori riuscite a vedere anche le fatture di acquisto e di vendita direttamente da un colpo d'occhio senza chiedere informazione all'amministrazione perciò condivisione collaborazione di cui prima parlava Andrea eccola qua l'amministrazione registra le fatture registra incassi e pagamenti il capo cantiere se il trova già qua senza andare a chiedere a nessuno se io dico ma sul mio cantiere 95 è uno dei miei cantieri come siamo messi col fornitore magazzino edile del clima o zollo ecco qua fatture di acquisto queste sono solo le fatture del cantiere che ho selezionato perciò io vedo che questa fattura la fattura 1542 che era di 720 euro non ho mai pagato nulla ho scaduto la prima rata e fra 30 giorni ho la seconda rata questa invece ho pagato 457 euro e via e via ho comunque tutto a portata di mano senza disturbare nessuno e da questi elementi widget non si possono far danni perché il tecnico anche se fa doppio clic ok non cancella non tocca niente una cosa importante che avevo bypassato prima ci sono dei ruoli all'interno di ergo tecnici controller amministrazione amministratore e visualizzazione in virtù di questi ruoli uno può fare solo determinate cose se è un tecnico non può toccare i dati amministrativi se è un amministrativo non può andare a toccare i dati del tecnico per salvaguardare e rispettare appunto le usabilità le operazioni di tutti in azienda ho anche degli elementi per controllare le ore dei miei uomini le ore dei mezzi le condizioni meteo che sono state rilevate in cantiere cosa banale ma non così banale ho anche i contatti di questo cantiere chi è il coordinatore della sicurezza il direttore lavori il capo cantiere insomma tutte le figure che ruotano attorno al cantiere questa è una banalità inserirla e gestirla ma che fa risparmiare tanti bei minuti nell'arco della durata del cantiere perché tutti vedono le persone sia in sede sia anche nelle app perciò se devo chiamare il coordinatore della sicurezza non chiamo in sede per farmi mandare il numero apro la mia app e lo chiamo cose banali ma utili nella quotidianità torno indietro eravamo sul primo sulla prima area di lavoro sul primo menu là in alto a sinistra poi abbiamo un menu per gestire gli archivi di base quotidiani insomma clienti fornitori articoli la grafica dei cantieri dipendenti i mezzi e via dicendo c'è una parte per la gestione del documentale ecco qua io ho l'elenco di tutti i miei cantieri ho selezionato il cantiere potete strutturarvi delle cartelle e sottocartelle per archiviare qualsiasi cosa abbiamo replicato quello che normalmente si fa sul NAS sul file system sul vostro pc sostanzialmente chiaro con quale vantaggio che quando archivio un elemento posso andare a scrivere disegno inviato da Andrea posso andare a mettere dei tag questo era un NAS build era che ne so vediamo il definitivo e posso dare un'importanza cosa succede se io fra sei mesi se fra sei anni quando ne ho bisogno dico sul mio cantiere Andrea mi aveva girato qualcosa era un NAS build seleziono NAS build e gli dico fammi vedere tutti i file del mio cantiere ecco qua me l'ha trovato io non so non sapevo dove era salvato ma con due clic ho trovato la mia immagine posso ricercare per data l'ultimo mese gli ultimi tre mesi posso ricercare anche tiro via questo e dico Andrea e premo invio ecco qua il programma con ricerca full text va a cercare ovunque quella scritta che ho messo qua perciò trovare qualcosa è semplicissimo perciò questo è il documentale anche qui c'è un'app vediamo se salto di qua e di là accendo l'app voi avrete una cartella come ho fatto io adesso Ergo Mobile all'interno Ergo Enterprise può avere tutte queste app Ergo One solo le prime tre Time per registrare i tempi dopo lo vediamo Doc è quella app a supporto del documentale Work per poter lavorare in cantiere inserendo che ne so DDT di trasferimento materiale da magazzino a cantiere inserire fare una richiesta di acquisto fare un ordine a un fornitore fare inserire le ore degli artigiani inserire un DDT di un fornitore tutta la gestione di costi posso gestirla lì e di trasferimenti Ergo Mobile Doc mi permette di selezionare il mio cantiere potete andare a dire che determinati utenti non vedono quelle cartelle perché magari nella cartella dell'amministrazione nella cartella fatture non voglio che i tecnici vadano a vedere perciò ecco questo elenco di cartelle lo potete condizionare voi legato agli utenti io questo elaborato grafico era nella cartella elaborati grafici e vedo la villetta 3 del piano terra vedo tutte le descrizioni che ho inserito qua in fondo premendo il tasto rosso me la vedo in anteprima ma se sono in cantiere e devo fare un rilievo magari vado nella cartella rilievi questa è una struttura di cartelle mia ho fatto un esempio io ognuno di voi se la può personalizzare e faccio una foto della mia postazione così vedete che sono un po' disordinato ma vabbè mi perdonate e qua nelle note posso scrivere che ne so problema con tubature vi dico che è molto importante e aggiungo anche un tag magari vado a cercare un tag legato ai problemi problemi tubature vediamo se abbiamo le tubature tubazioni va benissimo ok perciò io cosa ho fatto ho messo una descrizione magari nella descrizione scrivo Andrea sempre Andrea oggi diamo la colpa ad Andrea va bene ho messo i tag premendo ok tempo tecnico che il file dal mio smartphone arrivi sul server aziendale adesso da me è in tempo reale perciò io vedo il mio file vedo che è archiviato da Alessio in questa data in questa ora è importantissima questa cosa perché permette di tirar via il concetto del gruppi di whatsapp che tutti si fanno dove metto lì dentro le foto dopo qualcuno le deve prendere le deve salvare sul server sul pc tutta questa operazione che porta via tempo a più persone se con tre semplici click ho fatto la foto ho messo la descrizione ho salvato è già andato a finire sul cantiere nella cartella giusta e anche qui sto parlando di condivisione digitalizzazione ma soprattutto se armonizzano dei processi aziendali chiudo con l'amministrazione che io ho quella semplice perciò con la gestione delle fatture elettroniche dei fornitori dei clienti con la prima nota scadenziare l'incassi pagamenti perciò diciamo che la versione base di Ergo One permette di fare tutte cose queste cose come permette di farlo parto con lo standard storico che tutti rilevavano i costi dalla sede cosa vuol dire che i tecnici alla sera portano il rapportino cartaceo della mano d'opera e portano i ddt dei fornitori il pezzo di carta sul quale l'artigiano ha scritto fatto otto ore di tracce uno seleziona il cantiere dice artigiano selezionando artigiano il programma si predispone nell'inserimento di un documento vedete artigiani prestazioni di terzi là in alto un nuovo documento dove spiego solo due o tre colori in rosso sono i campi obbligatori in verde sono i campi facoltativi l'unico campo obbligatorio che vi rimane a compilare è il fornitore ovviamente sto inserendo un rapportino di un artigiano perciò Andrea lui trova un Andrea solo se invece scrivevo Zollo mi trovava più Zollo ed è magazzino o Andrea Zollo Andrea Zollo perciò ecco l'operatività di Ergo è semplicissima io dai campi scrivo premo invio va in ricerca se trova un elemento lo mette già il cantiere l'avevo già selezionato prima mi soffermo su questo campo perché Ergo può permettere di gestire il cantiere anche in VBS in fasi di lavoro in capitoli di spesa questo era un archivio era un cantiere di una riqualificazione energetica era diviso in cappotto pareti infissi solai era una ristrutturazione chiedo scusa perciò io posso avere budget per questi capitoli ma soprattutto rilevare i costi per questi capitoli se l'artigiano Zollo ha lavorato sulle pareti interne perché mi ha fatto le tracce posso dire si ha lavorato sui cantiere 95 e anche e sulle pareti interne bene non è un obbligo è un'opportunità che avete potete anche indicare magari ore di maggio prima settimana ad oggi premendo il tastino là in alto a destra andate a inserire le righe cosa sono le righe nel caso di di una prestazione di terzi ecco qua si va sempre comunque a ricercare nella grafica degli articoli per noi la grafica degli articoli contiene tutte le voci elementari di costo che sia materiale edile materiale per impianti materiale di consumo subappalti prestazioni non interni esterni o spese generali è tutto qua all'interno perciò in questo caso prestazioni di terzi io nel mio esempio mi sono diviso le prestazioni di terzi in tipologie di prestazioni impianti di cantiere movimenti terra prestazione varie di cantiere opere in calcestruzze opere murarie questo signore ha fatto le tracce perciò mi metto opere murarie adesso io non ce l'ho a ora perciò vado nelle prestazioni edili se non mi ricordo mali qua eccolo qua e gli dico che Andrea ha fatto otto ore salva tra le altre cose probabilmente qualcuno di voi ha visto che è venuto giù un 15 euro perché Ergo potrebbe anzi vi aiuta a gestire anche i listini dei vostri fornitori se avete la fortuna che ve lo mandano in Excel potete importarvelo in Ergo così ve lo tenete aggiornato tante volte quanto volete se non avete quella fortuna due le strade potete farlo a mano ma è un lavoro lungo oppure Ergo man mano che utilizzate queste voci e scrivete un costo qua 16 euro d'ora in poi la prestazione in mano d'opera per Andrea Zollo sarà 16 euro perciò si autoalimenta i listini per aiutarvi in modo da avere sempre più i costi in tempo reale ecco è questa l'operatività per inserire un costo stessa cosa se mi arriva un DDT e volete rilevare i costi di cantiere da DDT e non da fattura vostra scelta a me piace da DDT perché ho il tempo reale perché inserisco il materiale inserisco le quantità però è una vostra scelta decidere come e con quale dettaglio inserire i costi in virtù di quello che vi interessa controllare qua mi è arrivato il DDT del magazzino e del clima per quanto riguarda le coperture o le finiture adesso non mi interessa adesso vado avanti DDT numero metto il numero di DDT la data del DDT la inalto freccettina e vado nelle righe qui è un DDT perciò da questa videata di ricerca degli articoli andrò a scrivere mi sono arrivati dei pozzetti scrivo pozzetti 30x30 ma se io sapevo che era 30x30 scrivevo già questo mi filtra e ergo mi filtra già i pozzetti 30x30 di come ne sono arrivati 5 di questi dopo mi sono arrivati i 40x40 questo qua due di questi uno di questo dopo mi sono arrivati i chiusini ovviamente un 40x40 e i 30x30 me ne sono arrivati 4 un badile sto inventando vero però come vedete dalla ricerca metto tutto quello che è indicato sul DDT se qualcosa non c'è potete creare gli articoli nuovi premendo salva lui mi genera le righe del DDT anche qui col prezzo se l'ho movimentato in questo caso ho anche uno sconto perché è proprio una gestione del listino del mio magazzino ma potrebbe essere e qui lo faccio che non vi arrivi il costo vero io lo inserisco in ugual modo quando arriverà la fattura sarà la fattura in quel momento lì di controllo bolla fattura che vado a sistemare i costi attribuendo il costo indicato in fattura chiaro mi devo fidare del mio fornitore in quel caso lì ok perciò l'operatività è questa l'altro tipologia di costo che devo inserire è la mano d'opera è possibile inserirla settimanale qui ho già inserito un'ora io posso dire ok Alessio ha lavorato anche sulla copertura ha fatto ore ordinari ore normale ha fatto 6 ore martedì 8 ore mercoledì 8 ore giovedì iniziato iniziato a togliere i vecchi coppi ok salva e qui sotto magari le attrezzature così si fa settimanale perciò adesso ho inserito artigiani soppaltatori ho inserito costi da materiali costi da mano d'opera spese generali è lo stesso identico modo cliccando su spese generali magari ho un'assicurazione oppure una nota spesa non è necessario indicare nulla di riferimento al documento esterno ma magari una VBS che si chiama varie clicco il solito tastino in alto a destra e magari un'assicurazione adesso mi viene in mente assicurazione io avrò dei gruppi costi indiretti di cantiere assicurazione e qua tutto l'elenco dell'assicurazione che io mi sono creato insomma dirò è questa assicurazione qua e vado a dire che ho speso 350 euro fine io adesso sono veloce o pratica ma è questo il lavoro quotidiano che dovreste fare questo lavoro proprio per nell'ottica della digitalizzazione della collaborazione lo si può fare anche da app vediamo che non si è andata in stand by ok speriamo di no tramite cosa tramite due app Ergo Mobile Time che permette di rilevare le ore uomini e mezzi vostri perciò clicco sul primo tastino del camioncino programma mi propone l'app mi propone l'ultimo cantere sul quale ho rilevato ore da questo smartphone perciò se sto due tre giorni più giorni comunque sul mio cantiere non lo devo neanche cambiare perché ce l'ho lì cos'è che può cambiare la fase di lavoro se la gestisco la VBS se la gestisco perciò io dico che ho lavorato sulle finiture entro nella mano d'opera premendo questo tastino e anche qua mi propone l'ultima squadra perché io è l'impostazione che rilevo da capo commessa mentre nella versione enterprise si può attivare anche la rilevazione start and stop sono arrivato in cantiere ho finito di lavorare in cantiere vado sono andato a pranzo torno indietro insomma start and stop qual è il vantaggio del start and stop che rilevo anche la posizione dello start e la posizione dello stop e su una mappa incorporata dentro ergo vedo dove sono i miei operai però l'obiettivo è uguale rilevare le ore io qua metto la mia squadra dico cosa ho fatto demolizioni magari lo dettaglio meglio o scrivendo o dettando tramite il traduttore di google o per chi ha l'iphone con siri indico le ore che ho fatto ho fatto sei ore e premo il tasto verde per salvare fine automezzi mezzi insomma in particolar modo e dico che ho usato il bobcat per un'ora e un'ora e mezza insomma quello che serve e anche lì nella parte bianca posso descrivere il cosa ho fatto direi che è banale inserire un rapportino non è banale farlo inserire dai voi operai lì bisogna lavorarci un po' in questa app è possibile indicare anche le condizioni meteo sul mio cantiere 120 oggi c'è nuvoloso tabellina nuvoloso e temperatura 20 gradi posso fare anche delle foto o allegare dal rullino dello smartphone faccio la foto mi giro a destra così vedete Verona perché stiamo facendo da Verona è un parcheggio vicino a Italy in questo caso salva ok posso indicare delle note su questa immagine e dopo sì contatti prima vi dicevo di contatti ecco qua io ho tutti i miei contatti il commerciale il capocantiere il coordinatore la sicurezza e via e via e via e da lì posso cliccare chiamare cliccare inviare la mail a fine giornata in pausa pranzo avete riepilogo giornaliero in modo da vedere se avete rilevato le ore di tutti i cantieri per tutte le fasi di lavorazione di tutto il personale 10 ore se è tutto a posto premete questo tastino e inviate consolidate ecco si è scollegato comunque non è un problema adesso lo ricollego facendo banalmente disattiva e reattiva proprio è un problema dello smartphone credibile vi chiedo scusa voi comunque cliccando l'iconcina lei in alto non avete perso il lavoro lui ha salvato sullo smartphone tutto quello che doveva salvare ed è importante questo perché fa in modo che non ci siano scuse del non fare sta arrivando eccolo qua torniamo qua signore mio dopo le invio senza disturbarvi oltremodo stesso modo stessa operatività l'ultima app che volevo farvi vedere infortunati sto un tanto sull'altro monitor accendendo testando ok io qua ho i miei cantieri seleziono il mio cantiere e qua su questa app che è la Ergo Mobile Work è l'ultima nata perciò tutte verranno rapportate su questa grafica pian piano anche noi siamo capacità finita possiamo permettere ai vostri tecnici di cantiere agli operatori di cantiere di fare alcune attività nel mio esempio ho le richieste materiali gli ordini fornitori inserire le ore e le prestazioni degli artigiani inviare materiale da magazzino al cantiere inserire un fornitore le note spese e via indicare i lavori fatti in oli esterni una banalità ore degli artigiani prima abbiamo visto inserirlo da là cliccando qua gli dico il mio artigiano ha lavorato sul cappotto quando oggi avanti quale artigiano giustamente solito Andrea avanti articoli ovviamente sull'app possiamo vincolare gli artigiani a vedere solo gli articoli di prestazione dei terzi qua andrò a indicare la prestazione che ha fatto il nostro artigiano posso ricercarlo posso navigare come sto facendo io adesso gli dico che ha fatto 5 ore salva posso anche nella parte media col più di fianco al media fare un voice per indicare quello che ha fatto fare una foto fare un video fare tutte queste attività che di solito si fanno con Whatsapp è già la seconda volta che dico che vorremmo tirare via Whatsapp perché un'app fatta apposta canalizza già le informazioni sul cantiere giusto stesso modo posso indicare anche il DDT del fornitore qua vi dico sono pochi che riescono a fare avere la collaborazione dai cantiere di indicare proprio tutto il materiale che mi ha mandato il fornitore i più cosa fanno dicono mi è arrivato il DDT numero 45 RF quello che è insomma ce l'ho scritto sul DDT e nei media nei media vanno a fare la foto del DDT con quale obiettivo che almeno un attimo che ho premuto chiusi io perché sono fortissimo oggi è una giornata così benissimo avanti media faccio la foto del DDT perché prima ho detto faccio un media prendo un'immagine che almeno assomiglia che non è il mio pc questa volta salva ok e la salvo e invio questo cosa succede mette nelle condizioni chi è in sede di avere domani mattina magari la prima cosa che faccio al mattino quando arrivo di controllare tutti i DDT che mi sono stati mandati in modo da guardare la foto e inserire il materiale proprio in modo più dettagliato come ho fatto io prima questa è una grande cosa perché ho già subito ho fatto due cose ho archivato il DDT perciò si evita di perdere voi tutti sapete quanto corro dietro queste cose e in tempo reale inserisco i miei costi chiudo qua anche qua i contatti ma ho un terzo tastino quello in basso destra che mi permette di sapere ho fatto una richiesta di acquisto di pozzetti clicco vedo la mia richiesta di acquisto che avevo fatto il 10 vedo che è già stato fatto un ordine fornitore ah sì bene grazie bravi come se avessi fatto un ordine fornitore vediamo se c'è qualcuno che è già arrivato no ho solo ordini fornitori senza la citazione merce però dai cantiere questo che volevo farvi capire è che uno dice ma come siamo messi con quello che ti ho chiesto di fare dall'app riescono a vederlo l'ultima app dopo ho finito mi dedico a voi però non ve la faccio vedere da app ve la faccio vedere da portale che è più semplice sappiate che è possibile utilizzarla anche da app è quella delle analisi dei cantieri intanto lo sto accendendo anche sullo smartphone tanto per farvi vedere che è possibile allora una roba alla volta analisi cantieri vedete che sono i famosi cruscotti di cantiere sono delle analisi che permettono di capire quali sono i migliori cantieri i peggiori cantieri fare analisi per tipologia di cantiere per capire qual è la maggiore tipologia di cantiere che mi rende di più qua vedo che gli impianti elettrici e l'edilizia sanitaria non vanno bene posso fare analisi dei ricavi come siamo messi cantiere per cantiere vedo il fatturato eccetera diviso per mese analisi per cantiere qua ho un cantiere che mi fa vedere diviso per capitoli il budget costi ordini contratti subappalto dai vadari costi rilevati budget ricavi silsal interventi di dettile fatturare fatturato ricavi per arrivare a margine previsto a valore in percentuale margine effettivo con lo scostamento posso analizzare i miei fornitori per cantiere o se tiro via il cantiere per tutti i miei fornitori analisi della mia manodopera analisi della merceologia non mi soffermo vi faccio vedere tutto quello che si può analizzare e analisi del capocantiere perché così dico fammi vedere Alessio come sta andando Alessio insomma è in graduatoria il terzo Gianni e Carli sono più bravi di lui ma come mai sì perché c'ha questo cantiere che non sta andando bene bene adesso vado in riunione e ho i dati per parlare e confrontarmi con lui stessa cosa intanto è arrivata anche l'app sullo smartphone posso farlo sullo smartphone tutto questo serve per perdere meno tempo di scrivere su carta e avere tutti i dati in tempo reale anche una banalità della foto aiuta che in sede perché ho già tutto archiviato e mi permette di non perdere tempo di non rompere le scatole a qualcuno per farmi mandare il dato a consuntivo questa è la nostra idea con l'obiettivo come dicevo all'inizio di avere i costi in tempo reale e capire se un mio cantiere mi sta marginando o si sto perdendo il come se lo si raggiunge ve l'ho fatto vedere o da pc o da app la cosa migliore è la collaborazione di tutte e due queste entità è la cosa migliore Grazie.